buongiorno buongiorno buon venerdì non su un'isola deserta come robinson ma tra i miei amati monti feng shui in piemonte come dice come dicono a torino a milano in tre secondi si diventa pallidi ti viene l'occhio smorto poi torno qui tra i miei monti e mi ritorna il colorito esteriore anche interiore bello colorito bello tonico per di più per di più ieri mattina ho inforcato un paio di sci perché il mio amico paolo mi ha detto prova questo che si occupa di sci vende sci noleggia sci traffica sci eccetera mi ha detto prova questi sci vedrai che roba ci fai quello che vuoi e io ho detto ok paolo mi sono preso giornaliero e sono andato a provare gli sci solo che li ho provati per quattro ore chi si fermava più ed è vero che potevo farci quello che volevo ed è vero che volevo potevo farci quello che potevo farci quello che volevo raggi lunghi raggi corti saltini eccetera e poi a un certo punto ho detto oh marco guarda che ne hai 68 di anni non ne hai 20 30 40 50 occhio che ne hai mai 68 e l'anno scorso eri anche in coma e vabbè però quando io forco un paio di sci non capisco più niente peraltro c'era la neve non tanto bella perché molta neve sparata perché il cambiamento climatico c'è e nevica poco e c'era solo una pista su 70 c'era solo una pista aperta lunga lunghissima io la facevo avanti indietro avanti indietro avanti indietro non c'era nessuno un godimento totale però occhio che 68 anni allora tutto sto riporto per dire che avevo questo quarto tentativo perché avevo fatto tutto un pistolotto sul confine tra marketing e pubblicità e scusate il giornalismo quando il giornalismo viene usato come clava quando la notizia viene usata come clava di marketing o come clava di strumentalizzazione politica sulla pelle anche magari di un ragazzo di 19 anni che è morto cadendo dalla moto chissà fosse toccato dalla macchina di carabinieri che non inseguiva forse no o su chi non ha pagato la multa durante il periodo del covid ecco tutte queste robe che vengono usate come come clava dicevo quasi ideologica e politica da tutti ho detto ma vabbè lasciamo perdere parliamo di cose più più simpatiche e più gradevoli perché poi alla fine anche se siamo dentro un algoritmo la nostra vita è bella e può essere fatta di godimenti molto semplici e molto antichi e viva la montagna e abbasso il marketing a prima